Ida Platano sul ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Ho avuto la certezza di aver chiuso definitivamente. Ida Platano, storica ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, nell'ultimo periodo ha visto tornare il suo ex in studio di Uomini e Donne per confrontarsi con Roberta Di Padua, sua attuale fiamma. Ida Platano, prima di rimettersi in gioco a Uomini e Donne, aveva dichiarato di avere un po' di ansia al pensiero di poter ricontrare il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri in compagnia di un'altra donna, ma ad oggi, Ida sembrerebbe proprio aver trovato la sua serenità e la sua stabilità. Intervistata a Uomini e Donne Magazine infatti, Ida Platano ha dichiarato. Non pensavo, ma mi ha fatto bene rivederlo perché ho avuto la certezza di aver chiuso definitivamente un capitolo della mia vita. Uomini e a Donne. Ida Platano confessa. Mi vedevo provata, mi vedevo brutto. Intervistata a Uomini e Donne Magazine, Ida Platano ha raccontato del momento in cui ha capito di non riuscire più a reggere una relazione che le recava sofferenza. La consapevolezza di dire, basta, a detta dell'affascinante dama, sarebbe arrivata dopo un periodo di forte crisi personale, e infatti Ida ha dichiarato, la consapevolezza è arrivata quando non mi sono più riconosciuta allo specchio. Quando spegnevo la televisione perché non volevo né guardarmi, né ascoltarmi, mi vedevo provata, mi vedevo brutta. Ida Platano infatti, per un periodo ha dichiarato di essersi fatta aiutare psicologicamente per superare la crisi e, ad oggi, la dama è tornata ad essere la bellissima donna solare ed energica di sempre. Uomini e Donne. Ida Platano su Armando Incarnato, ogni tanto tende a perdersi. Ida Platano. Che non ha mai negato di provare simpatia per il cavaliere napoletano Armando Incarnato, intervistata in esclusiva per Uomini e Donne Magazine ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle ultime situazioni che hanno visto il cavaliere in questione scontrarsi addirittura con la padrona di casa, Maria De Filippi. Secondo me, non è stato ancora veramente innamorato, quindi tende a trattare i rapporti con leggerezza. Lui è una brava persona. Però ogni tanto tende a perdersi, ha dichiarato Ida Platano su Armando Incarnato, che nelle ultime ore è stato inoltre criticato da una ex dama del trono over.